Vittorio Angiolini Poi lo voto anche perché siamo insieme in questa sfida per Ignazio Marino e credo che ci sia un filo che tenga assieme storie così diverse, la mia, la sua, quella di tante e tanti che con biografie differenti portano il proprio contributo. Il filo è quello di volere un partito democratico più deciso, più determinato, più capace di dire chiaramente dei sì e dei no come Marino con grande forza spiega in ogni sua uscita. Un partito democratico che con maggiore semplicità indichi il futuro a questo paese. Noi siamo animati da una grande voglia di futuro, ci spaventa un partito che continua a litigare in relazione alle sue storie passate.